Buonanotte a tutti, grazie per aver venito. Abbiamo l'onore di avere 4 musici dell'Orchestra del Cordo questa notte, ha caído con il partito della Coppa del Rey perché abbiamo programmato hace molti mesi, era il tempo unico del descanso che avevano, sono fantastico, toccando maraviglia, io già lo escucho questi giorni e insegnando, e os pido di apagare il mobile, se potete, ora, perché stiamo facendo la programmazione, e dejiamo la lucia encendita perché prima abbiamo provato, però si apaga tutta la sala, non si può pagare, ha pagato nada, e così vi presento il quattro stream. Grazie. 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 Grazie.